In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza, 5 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra verso Firenze. Un incidente avvenuto tra Montelupo e Ginestra sempre verso Firenze e ancora verso Firenze e coda a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Roma 1 km di coda per veicolo fermo tra Badia e Firenzuola e rallentamenti per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Firenze Sud in Cisareggiello. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!